Ciao a tutti amici di Vanilla. Il nome di Josephine Baker, la prima vera e inimitabile venere nera, evoca la mitica età del jazz, le trasgressive e notti parigini degli scintillanti anni venti e ancora un'esotica don sauvage, pura espressione del lato energico e vitale dell'erotismo, durante la quale la musica sembra sgorgare dal suo corpo. È tutto questo, certo, la perla nera, la dea creola, cantante, ballerina e attrice afroamericana che trova successo e ricchezza in Francia, ma la sua grandezza non sta tutta lì, anzi. Frida Josephine MacDonald vede la luce nel 1906 a St. Louis, in quella terra di grandi fiumi e incroci razziali che era il Missuri del precedente secolo. Ha poche radici nel passato, Josephine, e ancor meno speranze nel futuro. La madre Carrie, adottata da una coppia di ex schiavi, la concepisce, secondo la biografia ufficiale, con un musicista mulatto, ma c'è il forte dubbio che in realtà il padre fosse un uomo bianco. Prima di continuare a parlare di Josephine e di come divenne una star internazionale e una spia, lasciatemi chiedere a quei quasi sei spettatori su dieci che sono restii a iscriversi al canale di Vanilla Magazine di cliccare sul tasto iscriviti. Non lasciateci a marcire in un ghetto del Missuri, ma consentiteci di raggiungere i palcoscenici dei più trasgressivi club di Parigi. Grazie mille. Carrie e la figlia vivono nel ghetto nero di St. Louis, con la donna che sbarca il lunario facendo la lavandaia, mentre la bambina, sempre affamata, impara molto della vita nelle strade del suo poverissimo quartiere. A otto anni Josephine inizia a fare la domestica nelle case dei bianchi e si rende conto, letteralmente sulla sua pelle, cosa questo significhi. Una gentildonna le brucia le mani sui carboni ardenti perché ha usato troppo sapone per fare il bucato. A dodici anni ha già smesso di frequentare la scuola e a tredici e fuori di casa si mantiene facendo la cameriera, le capita anche di vivere per strada e di dover cercare qualcosa da mangiare tra i rifiuti. Intanto, però, tra un matrimonio e un altro, si sposa per la prima volta a tredici anni con un uomo violento e la seconda a quindici con Willy Baker, del quale manterrà il cognome. Inizia a lavorare in una compagnia di vaudeville itinerante, finché approda a New York, dove il rinascimento di Harlem consente la messa in scena di molti spettacoli interpretati da artisti neri. Spettacoli che hanno così tanto successo da essere portati nel 1925 in Europa, per la precisione a Parigi, dove una conturbante ed esplosiva Josephine si esibisce al teatro degli Champs-Élysées. La sua è una danza erotica che manda invisibilio il pubblico, e certo lascia poco all'immaginazione quel suo costume fatto solo da una gonnellina di banane finte e un esile con lana di perle. Nel 1927 è già la star delle Folies Berger, dove alle volte aggiunge spettacolo allo spettacolo entrando in scena con il suo ghepardo, Chiquita, che crea scompiglio tra i musicisti quando si gira tra di loro nella buca d'orchestra. Tanto per rendere l'idea di quanto la subrette fosse oggetto del desiderio di molti uomini, basta rammentare le 1500 circa proposte di matrimonio da lei ricevute, i duelli illegali combattuti per contendersela e il suicidio di un pretendente respinto. Ernest Hemingway, che passa ore seduto in qualche caffè di Parigi e con lei, la trova la donna più sensazionale che si sia mai vista. George Simenon riesce a sedurla, Picasso la ritrae, mentre l'irrequieto Jean Cocteau, che non è innamorato di lei, lei è tanto amico da aiutarla nella sua scalata al successo anche fuori dalla Francia. Nel 1928 Josephine intraprende un lungo tour in Europa, ma la prima tappa, a Vienna, la riporta a quella amara realtà razzista che aveva vissuto negli Stati Uniti e che l'aveva convinta a trasferirsi in Francia. Nella capitale austriaca, già permeata dall'ideologia razzista, viene accolta da urla come «torna in Africa» e cartelli che la definiscono «diavolo nero». E anche quando torna a New York nel 1937 per esibirsi da protagonista nelle Ziegfeld Folie, l'accoglienza è meno che tiepida. Il Time scrive di lei «Donna negra, la cui danza e il cui canto potrebbero essere superati ovunque al di fuori di Parigi». Qualche critico musicale fa notare che ha una voce troppo debole e bassa per riempire vocalmente il Wintergarner Theatre di Broadway. Vuoi mettere con i teatri francesi? Quando rientra in Europa, la Baker sposa un industriale francese di origine ebrea, Jean Lyon, e prende la cittadinanza del paese che l'aveva accolta senza badare al colore della sua pelle. Dunque, in quegli ultimi anni trenta, Josephine Baker è una donna nera, sposata a un ebreo, divorzerà nel 1941, padrona della sua vita, ricca e per giunta bisessuale, anche se non ostenta la cosa. Tra le sue amanti ci sono personaggi noti come la scrittrice Colette e la pittrice Frida Kahlo. Rappresenta quindi tutto ciò che il nazismo aborrisce. Nel 1939, il numero uno del controspionaggio francese Jacques Sabte recluta Baker come spia al servizio del suo paese d'adozione. Deve aiutare la resistenza, servendosi delle relazioni intrattenute grazie alla sua notorietà, carpendo segreti sui movimenti delle truppe tedesche. Quando Abtelle propone quell'incarico, lei risponde «La Francia mi ha reso quello che sono, le sarò grata per sempre, i parigini mi hanno dato tutto. Sono pronta, capitano, a dare loro la mia vita». Baker è tutto il contrario della classica spia. Non può certo viaggiare di nascosto o in incognito, ma la sua fama le apre le porte delle ambasciate, comprese quelle italiane e giapponesi, nei paesi dove si sposta per i suoi spettacoli. Ed è lì, tra un cocktail e una canzone, che ottiene le informazioni che cerca. Scrive appunti sui palmi della mano e sulle braccia coperte delle maniche, tanto è certa che nessuno può sospettare di lei. Dopo l'invasione nazista della Francia alla Baker, nel giugno del 1940, detto suggerimento di Abtelle, lascia Parigi e si trasferisce nel sud del paese, allo Chateau de Milan, che prende in affitto non solo come suo personale rifugio, ma anche per accogliere e nascondere gli oppositori del nuovo regime. Alla fine di quello stesso anno, la Subrette, insieme ad Abtè, che si finge suo segretario, riesce a contrabbandare importanti documenti da far arrivare a Charles de Gaulle, rifugiato a Londra, dalla Spagna al neutrale Portogallo. Nasconde carte e fotografie sotto i vestiti, sicura che a nessuno sarebbe passato per la mente di perquisirla. Nel 1941, Baker e Abtè si spostano in Marocco, ufficialmente per problemi di salute. La Subrette, come si conviene alla sua immagine, viaggia con 28 bauli e un imprecisato numero di animali, come scimmie e topi. Chi poteva sospettare di lei? In Marocco, Baker rischia di morire veramente a seguito di un avorto spontaneo e poi di una peritonite che la terranno in ospedale per molti mesi. Tanto che negli USA la danno per morta e su un giornale di Chicago viene pubblicato il suo necrologio, al quale lei risponde «C'è stato un piccolo errore, io sono troppo occupata per morire». Alla fine del 1944, dopo la liberazione di Parigi, Josephine Baker torna finalmente nella sua città, indossando l'uniforme da tenente ausiliaria. È un trionfo, anche se di altro genere rispetto a quello tributatole durante i suoi spettacoli. A bordo di un'auto percorre gli Champs-Élysées, con migliaia di persone che lanciano fiori al suo passaggio. Lei è riconoscente, tanto da vendere molti dei suoi gioielli e altre cose di valore per dare aiuto a una popolazione allo stremo. Il governo francese le conferisce la Croix des Guerres e la Rosette de la Résistance, e anni dopo anche il titolo di Cavaliere della Legione d'Onore. Nel 1947, insieme al suo quarto marito, Jean Bouillon, acquista lo Château de Milan dove lei, che non può avere figli, ha avuto diversi aborti spontanei finiti con un'isterectomia, adotta 12 bambini, la sua tribù arcobaleno. Baker vuole dimostrare che i bambini di etnie e religioni diverse possono essere fratelli, possono andare d'accordo nonostante le differenze, ma quando il matrimonio con Bouillon, dopo 14 anni, finisce in un divorzio, quel sogno si dimostra fragile. Lei è praticamente in rovina, perché ha investito tutti i suoi soldi in quel progetto di vita. Nel castello c'è un grande parco, un motel, un jazz club, una caffetteria e un minigolf, che anche una ostentazione e dimostrazione della possibilità di affrancarsi dagli imperanti cliché sugli afroamericani e, in particolare, sulle donne afroamericane. Anche una povera ragazza nera può avere successo e diventare ricca e felice. Intanto, negli anni 50, Baker si impegna nel movimento per i diritti civili dei neri americani. Nel 1963 partecipa alla marcia su Washington organizzata da Martin Luther King, dove tiene un discorso che ha dentro tutta la sua forza. Sono entrata nei palazzi di re e regine e nelle case dei presidenti, e altro ancora. Ma non potevo entrare in un hotel in America e prendere una tazza di caffè, e questo mi ha fatto impazzire. E quando mi arrabbio, sai che apro la mia grande bocca. E poi fai attenzione, perché quando Josephine apre la bocca, la sentono in tutto il mondo. Quando la situazione finanziaria di Baker diventa insostenibile e deve vendere lo Chateau de Milan, la sua grande famiglia si sfascia. Alcuni dei figli la seguono a Monte Carlo, dove la principessa Grace di Monaco le offre una casa, altri andranno a vivere con il padre e altri ancora prendono strade diverse. Baker torna a lavorare, per necessità, sui palchi di molte città europee. Il suo ultimo spettacolo, che celebra i 50 anni di carriera, si tiene a Parigi l'8 aprile del 1975. Il teatro deve aggiungere sgabelli pieghevoli per accogliere i troppi spettatori, tra i quali ci sono Mick Jagger, Sophia Loren, Liza Milelli e molti altri noti personaggi del mondo dello spettacolo. La serata è un trionfo, i giornali scrivono meraviglie e lei, ormai stanca e non troppo in salute, se ne va dopo pochi giorni. Un'emorragia cerebrale la stronca mentre è a letto, che legge le recensioni entusiastiche sul suo ultimo show.